E' un'esperienza in America, a Eugene, nel tempio dell'Atletica, dove ho fatto il minimo per andare ai mondiali. E' un'esperienza in America, e l'altro è in Gaglietta. Arriviamo a 8, grazie questa volta all'aiuto del Tribunale, che le possibilità erano 0, perché comunque altri due figli ha una coppia che ne ha già 6. Yema, ti giuro ti arriva una sveglia. Sfida, andiamo a Yema. Per noi è tutto, almeno per me, perché lui insieme alla mamma ci ha portato dalla sofferenza, ci ha portato qua. Quando si va al lago, metto l'asciugamano vicino a una persona, e quelli lì magari alzano lo sguardo, perché dicono, lo percepisco perché so come funziona. Magari pensano che io sono di colore e sono per forza lì a rubare. Magari pensano che io sono per forza lì a rubare. Magari pensano che io sono per forza lì a rubare.